L'Italia pareggia 1-1 contro la Macedonia. La nazionale guidata da Spalletti ieri sera ha mostrato delle belle cose che vanno assolutamente lavorate e migliorate per renderle perfette ma ha mostrato anche tantissimi difetti che ci hanno poi portato a pareggiare l'incontro. Ed è giusto così, è giusto così. Spalletti non ha la bacchetta magica e non può in una sola settimana risolvere tutti i problemi che aveva questa nazionale con Roberto Mancini. Ho visto veramente tantissimi creator, tantissime persone incavolate con Spalletti, con i giocatori e con il risultato. Ma ricordatevi sempre che nel calcio le idee non sono immediate. Spalletti è un allenatore completamente diverso da Roberto Mancini. Non sto dicendo che sia migliore o sia peggiore. Dico solo che è un'idea di calcio completamente diversa e per inculcare la sua idea dentro la testa dei giocatori della nazionale italiana c'è bisogno di tempo e di fiducia, soprattutto da parte di noi tifosi. E ve lo dico con estrema sincerità, io me lo aspettavo un po' questo risultato. Soprattutto mi aspettavo questa prestazione. Nella prima parte della partita sufficiente, nella seconda parte insufficiente. Perché voglio ripetere nuovamente, Spalletti ha bisogno di tempo. E non sono queste due partite, quella contro la Macedonia ieri e quella di martedì contro l'Ucraina, che ci possono dire se Spalletti è adatto o non è adatto ad allenare una nazionale. Oggi siamo qui per parlare dell'incontro. Oggi siamo qui per parlare dei lati positivi e dei lati negativi di questa nuova nazionale. E domani o dopo domani uscirà un'analisi pre-match per la partita contro l'Ucraina. Dove vi mostrerò il mio modulo ideale. Quello che per me è lo schema giusto, l'idea giusta che può portare l'Italia al successo. Ovviamente metto le mani avanti, io non sono nessuno. Sto semplicemente esponendo un mio pensiero, una mia idea. E voglio soprattutto che voi qua sotto nei commenti esponete la vostra idea. Cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della nazionale. Cosa deve cambiare assolutamente Luciano Spalletti. Prima di iniziare a parlare della partita vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella. Ma soprattutto lasciate lecca a questo video per supportare il canale. Se volete vi potete abbonare per ricevere dei vantaggi esclusivi. Fatte queste mie solite premesse possiamo finalmente iniziare. Partiamo proprio dai lati positivi. L'idea di dare la possibilità a Di Marco e a Di Lorenzo di accentrarsi in fase di costruzione. E quindi diventare dei centrocampisti aggiunti. È veramente una bella iniziativa. Ormai nel mondo del calcio ci sono tantissimi club che utilizzano questa tattica. Per esempio il Brighton, il Manchester City, l'Arsenal. Squadre che dominano il rettangolo di gioco. Ma soprattutto che tengono di più il pallino del gioco. E quindi hanno bisogno di più pedine in mezzo a centrocampo. Perché avere più uomini ti semplifica la costruzione. Quindi per me questa idea è giustissima perché Spalletti vuole far diventare l'Italia una squadra dominante. Una squadra che prende il pallone, che gestisce il pallone, che ha più possesso palla. Che quindi va a dominare il rettangolo di gioco. E questa tattica è perfetta perché per me personalmente la più grande forza di questa nazionale sono proprio gli esterni difensivi. In quel reparto lì abbiamo una qualità veramente buona di Marco, di Lorenzo, Emerson, Biraghi, Spinazzola. Sono tutti terzini che se sono in condizione hanno veramente un'ottima qualità palla al piede. Un'ottima qualità nei lanci lunghi. Un'ottima qualità nel tiro da lontano. Quindi sono dei giocatori per me adatti a giocare all'interno di questo nuovo schema, di questa nuova idea. E sono sicuro che se questa tattica verrà portata avanti, verrà soprattutto sostenuta dai giocatori in campo, sarà una delle nostre armi più potenti nelle prossime partite della nazionale. Un altro lato positivo che ho visto è stato proprio il centrocampo. E lo so, molti di voi non saranno d'accordo con questa affermazione, ma la linea 3 che ha fatto scendere in campo Spalletti ieri sera a me è piaciuta tantissimo. Ed era un po' scettico all'inizio vi dico, soprattutto su Cristante. Infatti Cristante è il giocatore che mi ha sorpreso di più. È stata una diga e mezzo al campo, ma non solo. Era il nostro regista. È riuscito sempre a sfuggire dalle marcature, a differenza di Giorginio, che nell'ultima volta che abbiamo affrontato la Macedonia, prima di ieri, quando la Macedonia ha vinto 1-0 contro di noi, il centrocampista italo-brasiliano non è riuscito veramente mai, e dico mai, ad uscire dalla marcatura. Quindi veramente bello il centrocampo posizionato così, con un barella che gli si può dire veramente poco, va a destra, a sinistra, cerca sempre di sostenere sia il reparto offensivo che il reparto difensivo. L'unico giocatore dei tre che non mi è piaciuto è Tonali. Infatti in quella posizione lì io vorrei vedere più un Frattesi o un Locatelli. E vi spiego anche il perché. Quel ruolo, ricoperto ieri sera da Tonali, è un ruolo fasullo. Cosa intendo? Che quel giocatore, che gioca in quella determinata posizione, da quello perlomeno che ho visto ieri con la Macedonia, ricopre praticamente quasi tutto il campo, perlomeno cerca sempre di stare dove sta il pallone, cerca sempre di imbucarsi, cerca sempre comunque sia di sostenere, possiamo dire, di più il reparto offensivo che il reparto difensivo. Ieri Tonali non l'ha fatto per niente, ieri Mobile ha letteralmente giocato da solo in mezzo all'area di rigore, perché nessun centrocampista si inseriva. Quindi per me un giocatore come Locatelli, un giocatore come Frattesi, sono molto molto più adatti di Tonali in quella posizione del campo. Poi, bisogna dire che Sandro Tonali è un giocatore di qualità incredibile, quindi sono convinto che piano piano può entrare bene negli schemi dell'Italia, ma in questo momento Spalletti ha bisogno di giocatori che sanno già quello che devono fare. Un giocatore come Frattesi o un giocatore come Locatelli sanno già cosa devono fare, perché sono centrocampisti abituati a questi inserimenti continui. Quindi questi due sono i lati positivi che ho visto di questa squadra. I terzini che si accentrano e che danno qualità e aiutano la squadra in fase di costruzione e il centrocampo lineare e, posso dire, anche solido di questa nazionale. Adesso però iniziamo con i lati negativi e preparatevi perché se Spalletti non migliora quelli che erano i problemi che abbiamo visto con Mancini siamo veramente messi male. Il primo problema sono gli esterni d'attacco. Ieri io non ne salvo uno, anzi, ne salvo solo uno. Gnonto. I restanti sono tutti non da bocciare ma da rimandare. Zaccagni ogni volta che puntava l'uomo sbagliava. Politano è meglio non commentare la prestazione che ha fatto perché per me personalmente, mi dispiace dirlo, non è un giocatore da nazionale Politano, non è un giocatore che può vestire la maglia dell'Italia. È un esterno che fa sempre quello. Prende palle e si accentra, prende palle e si accentra. Col destro non ci sa giocare. Quindi se va a fondo campo non può nemmeno crossare. È un giocatore molto limitato. Non dico che sia scarso. È un buon giocatore ma non può giocare nella nazionale. Poi è entrato Zagnolo. Zagnolo l'ho visto bene all'inizio e poi si è spento alla fine. Per me si è spento alla fine perché il ragazzo non è ancora al 100% delle sue condizioni. Si è appena trasferito all'Aston Villa. Sta vivendo in un ambiente diverso. Ha bisogno di un po' di tempo. Ma credo che Zagnolo possa essere veramente la forza di questa squadra. Ma in questo momento dove il giocatore, l'esterno più forte della nazionale italiana, non c'è perché si è infortunato. E sto parlando di Federico Chiesa. Spalletti deve puntare su Gnonto. E fidatevi delle mie parole. Perché io Gnonto l'ho visto tutto dell'anno scorso. Ed è un giocatore che sì, forse farà pochi gol, farà pochi assist, ma è un ragazzo che sa puntare l'uomo. Sa andare nell'uno contro uno. Sa rendersi pericoloso anche in situazioni brutte. Perché questo è quello che è mancato all'Italia ieri. Gli uno contro uno. Prima, no? Abbiamo citato il gioco del Brighton, il gioco del City, il gioco dell'Arsenal. Li abbiamo citati perché abbiamo parlato di quest'idea. di accentrare i terzini in fase di costruzione. Beh, queste squadre hanno un'altra cosa in comune. Che sono gli esterni. Sia il Brighton, che l'Arsenal, che il City. Sono squadre che hanno esterni che provano sempre l'uno contro uno. E il 90% delle volte vincono questi uno contro uno. Creano superiorità numerica. E questo all'Italia è mancato. Perché nel momento in cui giocavamo con il pallone sulla sinistra e quindi Di Marco cercava di accentrarsi per prendere il pallone, Zaccagni non ci ha provato mai una volta a venire a raccogliere il pallone e poi puntare l'uomo. Provare a creare la superiorità numerica. Mai una volta. E questa cosa non va bene. Perché nel momento in cui i terzini non puntano, non superano l'uomo, ragazzi, c'è veramente poco da fare. Immobile rimane completamente isolato perché Tonali, come detto in precedenza, non si inseriva dentro l'arri rigore e il gol non lo trovi. Continua a fare le stesse azioni ripetute per 90 minuti e poi neanche le finalizzi. Perché dentro l'area di rigore c'è solo immobile. Quindi sì, ve lo dico proprio in maniera schietta. Il problema più grande di questa nazionale sono gli esterni. Vanno scelti con estrema, estrema professionalità. Perché ormai nel calcio gli esterni d'attacco giocano un ruolo importantissimo per la manovra di una squadra e io non posso continuare a vedere nella nazionale italiana della gente che non sa puntare, della gente che sa solo fare la stessa cosa ripetuta per 90 minuti oppure calciatori che proprio non sanno appoggiare un pallone con i piedi. Capiamoci. E qui ci colleghiamo al secondo problema. I gol. Ci mangiamo troppi gol. Ma questa è una causa. È una causa di quello che vi ho detto in precedenza. Tonali che non si inserisce, gli esterni che non puntano l'uomo e quindi si crea quella situazione dove dentro l'area di gore c'è solo ciri immobile o qualche volta degli inserimenti di barella e il gol sì lo vai a trovare perché lo abbiamo trovato ma con estrema difficoltà. E siamo stati anche abbastanza fortunati perché la palla va, sbatte sulla traversa e poi casca sulla testa di immobile. Questo è un problema che avevamo anche con Mancini. La nazionale italiana segna veramente pochi gol. Siamo una delle nazionali che segna di meno in Europa. Il dato che vi sto mostrando è importante perché abbiamo creato tre grandissime occasioni e ne abbiamo finalizzata una. Una delle tre che abbiamo costruito. Poi quando non riesce a segnare perdi fiducia perché questo è il terzo problema. La mentalità di questa nazione è una mentalità veramente bassa. Cioè una squadra che comincia a perdere ritmo appena inizia a vedere che le cose non vanno per il verso giusto. Abbiamo attaccato i primi minuti poi con la fortuna chiamatela un po' come volete siamo riusciti a segnare anche con la sfortuna perché c'è stato il palo dei tonali ci sono state varie situazioni che poi hanno portato. Però in generale quello che abbiamo visto è sempre il solito copione. Una nazione che attacca che prova a costruire sbaglia perde fiducia e poi prende il gol. Perché questo è quello che è successo ieri. Non è che ci siamo addormentati come dicono in tanti. Ieri la squadra ha perso completamente il filo del gioco. Perché ha perso fiducia? Perché crei e non finalizzi. Crei e non finalizzi. Voglio ripetere nuovamente le basi per qualcosa di nuovo ci sono. In attacco ieri e anche contro l'Ucraina è mancato e mancherà il nostro giocatore più importante Federico Chiesa perché è la realtà di fatti. È un giocatore che ti dà profondità è un giocatore pericoloso è un giocatore che non fa sempre la stessa cosa ma fa cose diverse sa giocare sia con il destro che con il sinistro quindi è mancato proprio il fulcro dell'attacco lì davanti. Ma le idee ci sono. C'è un meccanismo c'è un qualcosa di nuovo che vuole entrare nella destra dei giocatori. Quindi per me c'è solo bisogno di tempo e di scelte giuste. Perché anche queste convocazioni per me non sono molto molto giuste soprattutto nel reparto offensivo piena fiducia Spalletti ovviamente martedì c'è una partita importante bisogna sperare e pregare che l'Italia si presenti con una mentalità diversa perché è la mentalità è il modo in cui scendiamo in campo che è sbagliato ed è quello che vediamo con Mancini ma non solo con Mancini anche con Diventura al tempo vedo sempre la stessa mentalità si pensa di poter dominare un determinato gioco non ci si riesce perché la squadra avversaria si sa chiudere sa ripartire e iniziamo poi a perdere fiducia e a prendere gol quindi per me l'Ucraina la possiamo tranquillamente battere perché siamo più forti siamo una squadra con dei singoli più importanti però dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità e io spero vivamente che Spalletti non faccia le scelte come faceva Mancini cioè metto in campo questo perché l'ho allenato o metto in campo questo perché mi sta simpatico in campo devono scendere i giocatori che hanno voglia e soprattutto che dimostrano negli allenamenti e nelle partite precedenti di essere giocatori diversi di un altro livello incrociamo le dita e speriamo ovviamente nei prossimi giorni come ho detto nella intro uscirà un pre-match dove vi dirò la mia dove soprattutto vi mostrerò il mio schema come deve scendere in campo l'Italia contro l'Ucraina detto ciò io vi saluto vi ringrazio per la visione e alla prossima gente